Intanto un saluto a Marcello Minenna, al direttore Marcello Minenna dell'Agenzia delle Dogane. In occasione della presentazione del Libro Blu ho sentito il dovere, il piacere di fare questo videomessaggio. Bravo Marcello, brava l'Agenzia delle Dogane che nella sua specificità sta interpretando al meglio le riforme in atto nella pubblica amministrazione. Bene i bandi per i concorsi per 2.500 persone, posti di lavoro, progettati in corso di realizzazione con la metodologia nuova, digitale. Tutto digitale, basta carta e penna e soprattutto realizzazione in tempi rapidi, rapidissimi, 100 giorni. Quindi bene, bene lo sportello unico doganale che si sta realizzando nel senso della semplificazione, della digitalizzazione. L'Agenzia con la sua specificità, dicevo prima, sta raccogliendo la sfida. La sfida che io ho lanciato con le grandi modifiche attuate per via di legge, semplificazione, reclutamento, digitalizzazione, cloud, interoperabilità. Ecco, è un grande piacere vedere immediatamente realizzate proprie iniziative di legge che devono diventare realtà. Quindi grazie all'Agenzia delle Dogane, grazie a Marcello Milena.